Come annunciato, non tutte le regioni hanno ricepito i contenuti dell'ultimo decreto. In primis Lombardia e Piemonte, dove non sarà consentita la riapertura di librerie e cartolerie, se ne riparlerà il 3 maggio. La vendita di questi prodotti continuerà soltanto negli esercizi commerciali autorizzati. Altre regioni poi hanno stretto ulteriormente le norme previste, altre le hanno parzialmente allentate o ancora hanno introdotto finestre orarie per gli acquisti. Nelle Marche invece c'è chi, nonostante al momento non ci siano divieti, ha deciso di andare controcorrente e non riaprire l'attività, almeno per ora, così come ha fatto la titolare di una libreria di Ancona che addirittura ha deciso di scrivere al Presidente del Consiglio. Perché non è che non vogliamo lavorare, siamo molto contenti di lavorare e noi abbiamo bisogno dei nostri clienti e abbiamo voglia di dare libri e siamo contenti di essere un presidio culturale. Non c'era mai stato detto da un'istituzione, però dobbiamo farla in sicurezza, quindi io oggi non ho aperto perché sto mettendo a posto, devo mettere in campo tutte le formule utili perché noi non abbiamo problemi sanitari noi, i nostri clienti, i nostri familiari. Avevamo introdotto la Consiglia a domicilio per questo, per tenere le persone a casa il più possibile e quindi abbiamo scritto a Conte per dire vogliamo essere sicuri di quello che facciamo, non vogliamo aiuti, vogliamo il come. In questo periodo difficile, ci ha raccontato Simona, la forza per andare avanti ce l'hanno data i clienti, in particolare un ragazzo di Fano che ha voluto darci una mano con un buono che avrebbe poi utilizzato quando la libreria avrebbe riaperto al pubblico. Non posso pensare di aver esaurito il mio dovere sociale stando a casa, le ha detto il giovane, devo anche guardare chi questo problema lo sta affrontando in maniera diversa. Per me è stato, mi ha riacceso, mi ha rimesso la voglia verso il mio lavoro che stavo perdendo perché comunque pensavo che era difficile, è difficile ritornare e questa cosa mi ha veramente aperto il cuore, quindi lo ringrazierò per sempre. Avete gel, mascherine? È questo che vi manca? Allora, noi per i nostri, io ce l'ho, l'ho tolta, io ce l'ho, ho i guanti e lavoro con spruzzini e pulizie per il mio lavoro e lo stavo facendo da giorni. Devo prendere gel sanificante per i miei clienti perché se entrano, anche se avessero guanti, potrebbero aver toccato qualcosa, se toccano un libro lo contaminano. Cioè è diverso in questo momento la riflessione che si fa nel commercio. Aprire, perché non ce la faccio più a stare chiuso, come ho sentito dire da tanti miei amici commercianti, è giusto, è sacrosanto, ma dobbiamo riflettere che soprattutto in una fase in cui dobbiamo stare a casa, aprire non è così semplice. Aprirete soltanto al momento giusto. Quando saremo in garanzia, se è domani, due giorni, non lo so, cerchiamo di avere rispetto perché è un momento delicato, ci sono persone che stanno molto male e forse fra due settimane pensare che dobbiamo richiudere tutto, perché abbiamo avuto corsa, fretta di dare segnali, a me fa paura, mi fa paura di più. Anche perché dovremmo convivere tanto con questo virus, probabilmente, quindi dovremmo imparare a viverci e noi vogliamo avere il tempo per capire.